La storia di Gesù La storia di Gesù raccontata attraverso gli occhi di una donna, Maria Maddalena. Una storia di tenerezza, di libertà e di ritrovato entusiasmo. L'amore ha cambiato la sua vita. Quando aveva ormai perso ogni speranza, una donna trova la vera libertà e si riscatta dal suo passato. La storia di Maddalena mostra ciò che accade quando le donne decidono di scoprire il loro valore. Apposidisi, ammida sabbiere. Tu sei un uomo ebreo. Dio sono 9.000 samaritana. Tu te pedis abbiere a mie. Maddalena intraprende il suo cammino di libertà nel momento in cui incontra Gesù di Nazareth. Il suo prezioso racconto diventa testimonianza diretta per una presa di coscienza da parte delle donne. Non chi è sta bene ha bisogno del sudduttore, ma chi è malato? Dio non soenni tu accramare sul giusto, ma sono speccatori. C'è chi si convertano. Babbo mio, perdonalo. Maddalena, un ritratto spirituale della donna che ha accompagnato gli apostoli e Gesù di Nazareth. Negli ultimi anni del loro cammino. Insieme a loro, Maddalena compie un viaggio interiore, di maturazione e presa di coscienza della propria fede.